Quando ho deciso di fare la giornalista, frequentavo il Maffeoveggio, l'Istituto Superiore. Lì ho capito che si studia per essere cittadini consapevoli. Da quel momento ho deciso che ciò che avrei udito, visto, capito e neanche dubitato lo avrei scritto, lo avrei comunicato come giornalista, convinta che un giornalista debba spiegare in maniera più comprensibile possibile la realtà, ciò che lo circonda, ciò che ci circonda e che debba farlo rispondendo solo a se stesso. Quanto al fatto di essere uomo o donna, la cosa non mi ha mai toccato. Credo che il giornalista sia un professionista e come tale debbano sempre essere riconosciuti e vinti di tutti i lavoratori. Mi è sempre piaciuto scrivere e esprimere le mie opinioni. E con il tempo ho capito che questa mia passione poteva diventare un lavoro. Perciò oggi il mio lavoro quotidiano è quello di raccontare il mondo attraverso la lente della mia sensibilità. E a questo proposito, dato che una delle cose in cui credo di più è la scelta vegana, spero che con un'informazione puntuale su questo tema io riesca ad avvicinare quanti più persone possibili a questo mondo.